La via Giovanni Amendola L'amministrazione del sindaco Domenico Surdi aveva previsto l'acquisto di due box per autovelox fissi da installare all'alcavo marina ma rimanendo in attesa che la prefettura di Trapani stabilisse con proprio decreto dove poter collocarli. Dovendo impegnare entro l'anno un preciso stanziamento economico di 25.000 euro, quota di proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il Comune aveva quindi scelto di utilizzare per un'altra finalità il suddetto stanziamento che era stato già destinato all'acquisto dei due autovelox. L'alternativa trovata dall'amministrazione comunale in tal senso è stata quella di acquistare altri dispositivi elettronici di cui possiamo osservare in queste immagini i dettagli. Si tratta di segnali luminosi di avviso da attivare nei periodi di allerta meteo-idrogeologica come è già ampiamente noto ad Alcamo. L'area che è in pieno centro storico comprende la piazza Ciullo, la piazza Mercato e la via discesa al santuario, costruita in antichità su un torrente naturale, è tra le più soggette ad allagamenti, soprattutto in occasione dei primi nubi fragi e stivi autunnali. Vi si forma un vero e proprio fiume che nelle circostanze più gravi, quindi in caso di alluvioni, scende impetuose ed è in grado di trascinare persino gli autoveicoli parcheggiati, oltre che di provocare altri ingenti danni. Ecco il motivo per cui nel punto di viabilità in cui dalla via Mendola si accede in tale quartiere storico così critico, troviamo adesso questa segnaletica elettronica che dovrebbe servire mediante lanterne che si attivano in caso di necessità su disposizione della protezione civile ad avvisare gli utenti della strada circa l'imminenza di situazioni di pericolo legate alla possibilità di fenomeni meteorologici, idrogeologici e idraulici particolarmente avversi. Grazie a tutti.